Ma quanto è bello andare in montagna d'inverno, tra la neve, i paesaggi nevati, le ciasporate, è veramente un mondo particolare. Fate però attenzione a non fare questi 5 errori perché potreste letteralmente morire di freddo. Il primo errore è vestirsi troppo. So che è controintuitivo perché quando si ha freddo si pensa mi metto su qualcosa in più così mi scaldo, ma quello è un sollievo momentaneo, nel senso che è vero, ci si scalda, però appunto è momentaneo. A lungo andare la nostra escursione sarà un errore. Infatti se abbiamo freddo durante la nostra escursione è sbagliato andare a mettere su tantissimi strati. Questo perché anche nel periodo invernale è importantissima la traspirabilità. Questo perché quando noi facciamo il nostro trekking, se il nostro sudore non riesce a essere portato verso l'esterno e a traspirare, questo resterà a contatto con la nostra pelle. Nel momento in cui ci fermiamo o la temperatura scende, ci troveremo praticamente dell'acqua attaccata alla nostra pelle che ci andrà a raffreddare, che ci toglierà calore. Ecco che questo può portarci veramente a soffrire tanto tanto freddo. Ma dunque come vestirsi? Piuttosto che mettere addosso 20 strati diversi, è meglio concentrarsi sui classici 3-4 strati e prendere il singolo strato più pesante. In questo modo garantiremo traspirabilità, in questo modo non avremo naturalmente freddo e non avremo nemmeno quel problema di avere il sudore addosso. Se poi volete sapere nel particolare come vestirsi per un trekking invernale ciaspolata, ci ho fatto un video a riguardo che ve lo lascio qua sotto in descrizione. Il secondo grosso errore è quello di vestirsi troppo attillati. In che senso? Adesso ve lo spiego. Qual è uno dei migliori isolanti al mondo che utilizziamo in qualsiasi cose? Lo troviamo nelle nostre case, esempio tra i doppi vetri, lo troviamo nei piumini, lo troviamo in tantissimi contesti ed è l'aria. Quindi quando noi ci vestiamo è giusto vestirsi attillati nel primo e nel secondo strato. Dunque nella parte termica e nella parte di secondo strato proprio perché questi lavorando insieme portano fuori l'umidità e il sudore che abbiamo visto prima. Però sfruttiamo l'aria che è un ottimo isolante quando invece dobbiamo mettere un terzo strato, quindi magari un piumino o qualcosa di caldo. Dunque tra il secondo e il terzo strato evitiamo di prendere qualcosa di attillato, qualcosa che non ci faccia contenere aria. Se noi invece riusciamo a intrappolare un po' d'aria appunto tra il secondo e il terzo strato aumenteremo l'apporto termico del nostro piumino, comunque del nostro terzo strato. Ed ecco che lì avremo un calore aggiuntivo proprio perché l'aria che ristagnerà all'interno la scalderemo e resterà lì a scaldarci a sua volta. Questo è davvero un piccolo trucchetto ma che basta prendere una mezza taglia in più, una taglia in più o banalmente una taglia regular invece che slim fit, vi permetterà di stare più al caldo rispetto a prendere una taglia slim attaccata al nostro corpo. Se questo video ti sta piacendo e lo stai trovando utile ti consiglio di iscriverti al canale così non perderti altri consigli sull'attrezzatura della montagna. Il terzo errore lo si fa spesso in fase di pianificazione, ovvero nel momento in cui non pianifica la nostra escursione come facciamo sempre guardiamo il meteo, guardiamo la temperatura, ma d'inverno è importantissimo guardare anche il vento. Come d'estate magari guardiamo l'umidità per capire quanto sarà più alta la temperatura percepita, stessa cosa dobbiamo fare d'inverno per capire quanto sarà più bassa la temperatura percepita, ovvero l'effetto windshield. Questo effetto appunto fa ad abbassare di molto la temperatura percepita, vi basti pensare che attorno ai meno 5 gradi con un vento sui 20-30 km orari la temperatura può essere anche di 10-12 gradi inferiore. Ecco che questo è davvero importante per non ritrovarsi al freddo senza l'attrezzatura adeguata. Questo è semplicissimo calcolarlo perché appunto online si trovano un sacco di tabelle su un windshield fatte già a posta dove poter andare a capire qual è la temperatura percepita ed è importantissimo appunto per non congelare, per non ritrovarsi in dei punti veramente freddi con l'attrezzatura sbagliata. Sfrutto questa bella fontanella che ho trovato sul percorso per parlarvi del quarto errore, che è quello di non mangiare e non bere. Il bere, beh, diciamo che d'inverno non ci viene quello stimolo di aver sete, mentre d'estate facendo caldo, sudando tanto, ci viene proprio lo stimolo che abbiamo sete, quindi beviamo, d'inverno è abbastanza naturale che non ci venga. Dunque è meglio ricordarsi ogni tanto comunque di bere un sorso, soprattutto di bere magari qualcosa di caldo per scaldarci dentro, quindi un bel termos di tè non è una cattiva idea. E poi soprattutto il cibo, perché quando noi camminiamo, quando noi facciamo attività, bruciamo calorie, lo sappiamo d'estate e d'inverno si bruciano tante calorie. Il problema è che d'inverno tutte queste calorie aumentano, perché il nostro corpo brucerà ulteriori calorie per tenerci al caldo. Dunque a parità di sentiero, di tempo percorso, di pendenza della salita, tendenzialmente d'inverno si usano un buon 15-20% in più di calorie solo per tenerci al caldo. Ecco che dunque saremo costretti a mangiare di più, a idratarci, a dover integrare di più. Il quinto ed ultimo errore l'avete visto per tutta la durata del video. Ve ne siete accorti? Molte volte non ci si pensa perché viene naturale, però avere le estremità scoperte è sempre un problema. Le mani poi è veramente molto semplice, perché a livello di mani, quando abbiamo freddo alle mani, ci basta mettere i nostri guanti, ed è molto logico perché il freddo alle mani lo sentiamo. Quello che molte volte viene trascurato invece è il freddo alla testa. Quanto è grossa la nostra testa? Quanto calore emana? Quanto calore prodotto dal nostro corpo andiamo a disperdere? Tantissimo. Ecco che d'inverno è sempre meglio coprire anche la testa. In questo modo noi andremo a limitare l'uscita di calore e avremo più calore per noi per stare al caldo. Anche se magari fa un pochino più caldo, meglio optare per un cappellino più leggero, più traspirante, che non sia termico, ma che comunque non disperda il nostro calore. Questo è un consiglio molto fine, ma vi assicuro che vi garantirà di poter stare al caldo proprio perché avremo meno dispersione di calore. E tu che trucchetti usi quando vai in montagna d'inverno? Fammelo sapere qua sotto nei commenti che ne discutiamo assieme. E la speranza sia stato esauramente esotivo anche per questo video. Vi ringrazio che lo guardate e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!